Finalmente SEP c'è, il nuovo distributore di carburanti a mercato libero a Gubbio in via dell'Arboreto. Agenzia Unipol Sai a Gubbio in via Pierluigi da Palestrina 22-24, agente Cecchetti Mirella. Buonasera e ben ritrovati con l'appuntamento metodo di TRG. Andiamo ad analizzare la giornata di mercoledì 13 giugno, giornata che vedrà un primo peggioramento sulla nostra regione con piovaschi sparsi per tutto il corso della giornata. I piovaschi inizieranno nelle zone ovest della regione a partire dal lago Trasimeno, Pievese e Alta Valle del Tevere per poi estendersi a tutta la regione. Soprattutto nel primo pomeriggio-pomeriggio potremo avere qualche piovasco più consistente in Appennino e Preappennino e anche zona del Legumino Gualdese. Avremo nel contempo le temperature minime che caleranno di qualche grado e si attesteranno fra i 10 e i 13 gradi, mentre le temperature massime caleranno anche di 4-5 gradi attestandosi fra i 23 e i 26 gradi. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.